eccoci qua ragazzi ben ritrovati in questo nuovo capitolo del corso oggi parleremo di riverbero quindi andremo a vedere come funziona il riverbero all'interno di ableton live ma parleremo anche in generale quindi che cos'è il riverbero riverbero è un effetto dovuto alla riflessione dell'ambiente in cui ci troviamo quindi in cui parliamo in questo momento io sto parlando all'interno di una stanza il suono non si propagerà in maniera direzionale solamente direzionale da da me verso la telecamera verso il microfono ma anche nei confronti dell'ambiente quindi ovviamente se sono all'interno di un ambiente piccolo il suono avrà una risposta differente rispetto ad esempio ad una cattedrale se sono all'interno di una cattedrale avrò molte più riflessione avrò un tempo di riflessione maggiore quindi avrò un riverbero maggiore ecco il riverbero è quella coda del suono che ci indica un po' lo spazio in cui stiamo emettendo un suono ed ascoltando anche quindi diciamo che questa è la prima definizione quindi è un effetto acustico dovuto alle riflessioni dell'ambiente se ci troviamo l'aperto non avremo riverbero ma avremo altri effetti ad esempio se ci troviamo di fronte a una montagna avremmo un effetto eco avete presente quando parliamo davanti a una montagna risentiamo l'effetto quindi la riflessione è più simile a quella di un delay quindi il delay è un eco l'eco è quell'effetto in cui distinguiamo in maniera chiara il ritorno se dico ciao 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 questo è l'eco il riverbero invece crea quella coda del suono quella quell'ambiente che nella musica è stata tanto utilizzata anche per dare magia al suono quindi diciamo che se registriamo una voce aggiungiamo riverbero aggiungiamo una sorta di effetto nei tempi ad esempio in passato gli studi venivano dotati di camere acustiche per ricreare sinteticamente il riverbero quindi veniva prima registrata ad esempio una chitarra o una voce e poi veniva sparata diciamo suonata attraverso un altoparlante all'interno di queste camere acustiche dove venivano poi registrate l'effetto del riverbero di queste camere acustiche ovviamente era molto complicato sono state poi inventate dei riverberi a piastra le famose plate reverb quindi due piastre una di fronte l'altra una emetteva il suono l'altra la registrava si poteva con una manovella si poteva andare a cambiare la distanza quindi a modificare la distanza fra una piastra e l'altra quindi in una piastra veniva emesso il suono nell'altra piastra veniva registrata quindi fungeva da microfono e l'effetto del riverbero di questa riflessione dava l'effetto appunto chiamato plate reverb che oggi viene emulato simulato dagli effetti digitali dei plugin ad esempio altri riverberi sono i riverberi a molla montati su alcuni modelli di amplificatori per chitarra il suono viene sparato in questa molla e poi viene dall'altra parte della molla c'è un sorta di trasduttore di microfono che va a prendere la riflessione della molla quindi come reagisce il suono all'interno di questa molla e quindi diciamo che ci sono tante modalità e modi di ricreare riverberi artificialmente con i plugin con gli effetti digitali e con i processori appunto che sono stati utilizzati molto nella musica perché riverbero è un effetto praticamente indispensabile all'interno della produzione musicale andiamo subito a vedere come funziona un riverbero all'interno di ableton live quindi apriamo subito qua una voce ok questa voce io adesso ho applicato il riverbero andiamo qua audio effetti riverbero vedete qui cliccando su riverbero mi si apre questa e questa questa pace questo modulo appunto questo effetto riverbero andiamo subito a sentire l'effetto con e senza adesso metto le cuffie allora senza sentiamo solamente la voce andiamo rimettere il riverbero questo è l'effetto del riverbero allora io qui ho questo parametro dry wet ovviamente come abbiamo già detto altre volte determina la percentuale di riverbero in questo caso di effetto che andrò così è totalmente queste sono solo le riflessioni dell'ambiente e qui c'è l'effetto dry quindi la voce pulita passiamo subito con il vedere un po di parametri che che caratterizzano questo tipo di riverbero input filter che cosa significa questo è un filtro di ingresso quindi il suono prima di essere processato dal riverbero di live appunto viene come selezionato filtrato io posso decidere di far passare solamente certe frequenze al di far processare al riverbero solamente certe frequenze in questo caso andrò a tagliare ad esempio i bassi io qua posso tagliare la parte più bassa del suono oppure la parte più acuta perché perché ad esempio nel caso della voce che ha è uno strumento diciamo che ha molte sibilanti quindi molte molte frequenze che possono essere anche fastidiose queste sibilanti queste frequenze non verranno riprocessate quindi ripetute dal riverbero ma verrà solamente diciamo processata la parte che mi interessa quindi la parte delle frequenze medie al tempo stesso se abbiamo uno strumento come una strumento a corda o una chitarra vorrò invece escludere la parte bassa quindi la parte che va a ingolfare di più il suono e mantenere magari la parte delle corde da riverberare poi lì dipende anche dal nostro gusto da quello che vogliamo andare a riverberare o meno adesso teniamo questa parte così con light cut quindi praticamente con un taglio di frequenze sulle frequenze acute quindi non andiamo a riverberare le frequenze più acute questo è il filtro di ingresso da non confondere col filtro di uscita quindi con l'equalizzatore del riverbero l'equalizzatore del riverbero è quello che ci permette di equalizzare la risposta del riverbero quindi potrò avere un riverbero più scuro in questo modo sentiamo solamente il riverbero sentite come più scuro come più chiaro in questo modo lui non filtra niente quindi fa passare il suono come lo possiamo chiudere e qui possiamo avere vedete questo filtro può essere un filtro passa basso quindi escludere totalmente le frequenze alte ok oppure tenere oppure tenere il filtro high shelf che è quello che va a diciamo amplificare o a ridurre le frequenze lasciamolo adesso più o meno lineare e andiamo a vedere subito questo primo parametro che è il predilay il predilay è un parametro molto importante molto utilizzato nei riverberi perché ci permette come dice il termine di di capire dopo quanto di determinare dopo quanto il riverbero va entra in azione quindi in questo caso ad esempio che è puntato 2.50 millisecondi significa che il riverbero inizierà a lavorare dopo 2.5 millisecondi diciamo che solitamente un tempo medio di utilizzo va dai 10 in po in su quindi diciamo che sopra i 20 millisecondi è un buon parametro perché perché viene lasciata in questo modo intatta la prima parte quindi non viene riverberata la primissima parte questo perché l'effetto del riverbero può essere fastidioso se inizia subito perché può andare un po a confondere può creare un po di diciamo un po di nebbia quindi un po di confusione all'interno del suono quindi nella voce ad esempio teniamo un predilay lasciamo la prima parte non riverberata sentite cosa succede se aumento molto il predilay sentite che crea una sorta di onda un po come un delay perché perché viene diciamo che inizia a suonare il riverbero dopo in questo caso dopo 250 mille secondi quindi va a simulare un po l'effetto del delay dove il delay non è la parte del suono che viene ripetuta ma è l'inizio del riverbero quindi è come se noi iniziamo solamente con la parte dry e poi il riverbero arriva tanto tempo dopo da non sentire più la prima parte del suono ma avvertiamo un po come una una ripetizione diciamo che così è tanto lasciamo il predilay solitamente a 15 20 millisecondi va benissimo poi ho il decadimento del delay quindi il decay che è un po la lunghezza del delay quindi quanto è dura quanto dura questa riflessione quanto sarà lungo il delay questo lo stabilisco qua in questo caso avrà un delay di 5 70 un decay di 5 70 quindi 5 secondi virgola 70 quindi tanto questo sembra una cattedrale quindi sembra un ambiente molto grande al tempo stesso più vado ad accorciare questo parametro qua più avrò un riverbero corto quindi più un effetto di distanza ok teniamolo di solito un riverbero sulla voce diciamo che in maniera classica può avere una durata di 2 3 secondi questo è l'effetto e poi andiamo a girare a volte è sempre bene cioè bene dipende un po dall'effetto che vogliamo avere però solitamente si tiene un tempo di decay piuttosto lungo qua e poi si va a lavorare su quello che è la proporzione del dry wet altra cosa sono le early reflection chiamate appunto prime riflessioni le prime riflessioni sono delle riflessioni che danno un carattere particolare al riverbero determinano un po il carattere della stanza quindi ci sono stanze che hanno più prime riflessioni di altre questo è determinato anche dal materiale col quale è costruita una stanza quindi determina un po quella che è il carattere il timbro del suono del riverbero sentite cambia un po il suono in questo caso qua lo va a aumentare di armoniche di ok nel riverbero di ableton ho anche questa funzione qua chiamata chorus appunto che posso attivare o disattivare va ad aggiungere una modulazione di frequenza appunto che è il chorus va quindi ad aggiungere una sorta di chorus all'interno del riverbero cambiandone quindi l'intonazione della riflessione questo aiuta posso aumentarlo o diminuirlo sentite e aumentare anche la densità quindi creerà una sorta di chorus aggiungerà una sorta di chorus per aumentarne ancora di più la densità della risposta quindi è un effetto che posso utilizzare questo è quanto stereo è il la diffusione appunto del del riverbero quindi il di che abbiamo detto che è la lunghezza il size è la grandezza che non è è un valore simile al decay però va a rappresentare più il carattere del del suono del riverbero piuttosto che la lunghezza quindi riverbero lungo corto diciamo che utilizzo più questo parametro qua la densità del chorus le reflection il tipo di diffusione quindi la quantità di diffusione che ha il riverbero o meno questa è un po' diciamo l'ampiezza della diffusione del riverbero quindi il riverbero è sì la quantità di riflessione ma anche il tipo di riflessione perché a seconda di questi parametri in re-reflection filtri in ingresso filtri in uscita non è solamente un discorso di riverbero lungo o riverbero corto c'è anche proprio un discorso di di da fare su quello che è il carattere della riflessione quindi questo è importante perché ogni strumento e ogni voce ha un suo diciamo una sua esigenza di avere il riverbero solitamente è sempre bene automatizzare all'interno di un brano quello che è l'apporto del riverbero o utilizzare più di un riverbero magari utilizzare un riverbero corto faccio un esempio riverbero corto nelle strofe riverbero lungo nei ritornelli potrebbe essere anche una tecnica da adottare su Ableton Live questi tipi di mix sono per me un pochettino più complicati perché vorrebbero lavorare di più su quelli che sono mandate parallele quindi andando a aumentare o abbassare il ritorno delle tracce di ritorno è possibile automatizzare meglio queste cose però diciamo che non c'è una gestione come ad esempio su Pro Tools o su Logic del mix almeno a mio parere super professionale è perché si vede sempre live come un software che lavora in maniera seriale quindi ogni canale ha il suo flusso al suo rack di effetti poi è vero che ci sono le tracce di ritorno però diciamo che in questo caso per lavorare in maniera più viva più diciamo più professionale è bene lavorare su quelle che sono le le automazioni del dry wet e anche la dimensione del riverbero quindi fare in modo che in certe frasi ad esempio si avverta un riverbero più corto e in altre un riverbero più lungo questo può essere utilizzato in fase di mix va bene ragazzi credo di aver detto tutto per quanto riguarda questa parte di corso sul riverbero ci vediamo al prossimo appuntamento appuntamento